Ci siamo via alla raccolta firme per il referendum contro lo Spacca Italia per impedire che le diseguaglianze in questo Paese aumentino in modo indecente, per impedire che l'Italia sia spezzettata in menti piccoli staterelli del tutto incapaci di rispondere alle grandi sfide del nostro tempo. Una controriforma pericolosa, noi la cancelleremo.